Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. La Liguria è interessata dalla presenza di un flusso umido meridionale e da condizioni di parziale instabilità nelle giornate di oggi venerdì e di sabato, miglioramento domenica con il ritorno del tempo soleggiato. Il dettaglio, oggi venerdì 14 settembre, la presenza di questo flusso umido meridionale nei bassi strati determina cielo irregolarmente nuvoloso con alternanza di addensamenti di nubi basse e schiarite anche ampie. Possibili locali rovesci o temporali fino a moderati, più probabili fino a metà pomeriggio. Venti deboli dei quadranti meridionali con locali rinforzi fino a moderati in serata rotazione dai venti dal nord nord est. Mare poco mosso, temperature massime stazionare lungo la costa tra 26 e 28 gradi, nelle zone interne tra 26 e 28 gradi. Domani, sabato 15 settembre, cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui versanti marittimi per la presenza di nubi basse legate al flusso umido meridionale. Dalle prime ore della giornata, possibili locali rovesci o temporali di intensità fino a moderata. Venti al mattino tra deboli e moderati dal nord est a ponente, da est e sud est a levante, dal pomeriggio deboli di direzione variabile. Mare in mattinata tra poco mosso e mosso, nel pomeriggio poco mosso, temperature minime in aumento lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nelle zone interne tra 13 e 18 gradi, massimi in diminuzione lungo la costa tra 25 e 27 gradi, nelle zone interne tra 25 e 27 gradi. Dopodomani, domenica 16 settembre, una rimonta anticiclonica, interessa anche la nostra regione, con il ritorno del tempo stabile in prevalenza soleggiato, disturbato dalla presenza di locali addensamenti più probabili a ponente. Venti in mattinata deboli 70 giornali, nel pomeriggio deboli variabili, nuovo ingresso da nord in serata. Mare poco mosso, temperature minime stazionare lungo la costa tra 19 e 23 gradi, nelle zone interne tra 15 e 18 gradi, massimi in aumento lungo la costa tra 27 e 29 gradi, nelle zone interne intorno a 27 e 28 gradi. E' tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. a risentirci.